E qui con noi, facciamogli un grande applauso gigantesco, Fabio Foglini! Eccolo che arriva. Bello, bello, bello. 3, 2, 1! Ciao Fabio. Allora, aspetta. Abbasso un pochino la musica da questa parte. Bene. Domande facili. Allora, vediamo. Una domanda facile. Vediamo un attimino una domanda facile che possiamo farti in tempo reale. Allora, vediamo se funziona anche questo. Sì. Beh, ormai devo dire che... Che dire? Stai cucinando, stai andando avanti alla grande. Sempre, sempre, sempre... E beh, sei là. Sei diventato però da poco. Papà. Eh già. Facciamogli un applauso. Ti volevo chiedere. La domanda era... Qual è la più bella vittoria? Se ti viene in mente... Forse è una domanda banale che ti fanno tutti. Qual è quella che ha dato più soddisfazione tra ormai le tante? Eh, è verità. Sono diventato un bravo papà. Bravo! Esattamente quello che mi aspettavo. Esattamente quello che mi aspettavo. Beh, che dire... Loro avevano questo grande piacere, la città di Armenitaggia, di darti questo premio. Perché è stella dello sport, è orgoglio. Io ho usato questa parola perché mi sembra la parola più adatta per poter rappresentare quanto tu sei importante per Armenitaggia e per tutta l'Italia. Perché lui porta chiaramente la nostra nazione in giro per il mondo. Dunque, Dario, ci proviamo? Proviamo. Obiettivi futuri? Io pure. Sono qui. Sono qui, mi sto allenando, poi partirò a breve. Però che dire, devo ringraziare il nuovo sindaco e tutta la giunta per questo riconoscimento qui. Ovviamente, essendo di arma, essendo cresciuto qui ad Armenitaggia, è un enorme piacere. Ricevere questa targa in questa piazza sicuramente è una doppia, tra virgolette, vittoria. Perché comunque è una dedica che fa molto piacere, soprattutto perché è dedicata a Tiziano. Quindi questa targa sinceramente anche a lui. Io da una parte e dall'altra ha portato il nome di arma in alto. Quindi lo ricorderemo sempre così. Una foto, una foto, una foto. Ragazzi, potete scatenare i giornalisti con noi. Eccoli qui, una bella foto insieme per questo momento unico con il nostro grande Fabio Fognini. Un bel applauso. Bello, 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 bello. Fantastico.